Dario Fo è con noi per una delle nostre conversazioni e per parlare di molte cose perché è al centro di un libro edito da Chiare Lettere, il nuovo manuale minimo dell'attore che riprende un titolo precedente, un manuale precedente. È una riflessione sul mestiere dell'attore ma è anche un grandissimo amarcore, possiamo dirlo, perché si ripercorre un po' tutta la carriera di Dario Fo, Franca Rame, La Comune, tantissime sono le esperienze messe in fila anche con grande entusiasmo in questa narrazione. Perché ripartire proprio da questo titolo, il nuovo manuale minimo dell'attore? Perché si era messo in atto una ricerca e uno sviluppo di un discorso che era la nostra esperienza in teatro, abbiamo scoperto il bisogno di scrivere questo testo nel momento in cui eravamo con uno spettacolo, siamo stati un anno intiero quasi in tutti gli Stati Uniti, nelle città più importanti, nell'università. E proprio arrivando all'università moltissimi allievi e anche professori ci dicevano ma perché non scrivete un testo, bisogna documentarlo. E noi dopo molte volte che abbiamo ascoltato questa richiesta abbiamo deciso di scrivere il primo, pensavamo che bastasse. E invece la nostra vita è andata avanti proprio nel teatro, nelle trasformazioni e soprattutto nei momenti tanto di successo che di difficoltà. La censura per esempio si è mossa verso di noi veramente con uno slancio incredibile e ci ha messi nella condizione di bloccati per 16 anni di seguito. Quando eravamo in Rai, vi ricorderete il canzonissimo, si ricordano quelli che hanno una certa età. Ed ogni modo ci costrinsero ad andarcene, prenderlo a lasciare perché noi non avevamo aderito alla loro preghiera oppure imposizione a tagliare, e distruggere certi pensieri e certi modi. Abbiamo scritto questo primo che ha avuto notevole successo ma poi quando siamo arrivati a 15 anni fa ci siamo resi conto che avevamo lasciato indietro un sacco di fatti, di momenti e quindi ci toccava scrivere. Abbiamo cominciato a raccogliere materiale e poi in questi ultimi anni, Franca era ancora con noi, abbiamo cominciato a mettere giù le strutture, i momenti e soprattutto a sollecitare un fatto molto importante per noi ma anche per il teatro italiano. A un certo punto noi siamo usciti dalla struttura normale del teatro, dal teatro ufficiale, e siamo andati in cerca noi di un pubblico diverso. Abbiamo cominciato con le case del popolo, così si chiamavano, i luoghi dove si riunivano gli operai, i contadini, gli studenti. Abbiamo girato tutta l'Italia al di fuori da quello che è il circuito normale. Non solo, ma ci siamo resi conto a un certo punto, nei dibattiti che al termine di ogni spettacolo proprio bollivano, che era un pubblico che non voleva essere soltanto fruitore di un testo, di un discorso, di uno spettacolo fatto dagli intellettuali, ma volevano partecipare, volevano soprattutto indicare le cose di cui avevano bisogno, si parlasse. E qui è stato veramente il salto mortale. Ci siamo trovati a riunirci e a accettare il dettato di moltissimi uomini e donne che avevano bisogno, si trattasse, si documentasse, soprattutto si indicasse al pubblico che cosa stava succedendo, di sconosciuto, di nascosto e di soprattutto proibito. Facciamo una piccola digressione, perché questa è la settimana dei Nobel. Abbiamo parlato ieri di Svetlana Alexievich, Dario Fonò, chiaramente Nobel per la letteratura 1997. Si parlava anche di politica nella scelta di questo Nobel, però si parla di politica anche in questo manuale, perché si parla di manuale dell'attore e dentro c'è la strage di Piazza Fontana, Pinelli, la CIA, Gladio, Pinochet. Allora, vuole fare intanto un commento sul Nobel di ieri? Beh, il titolo che lei ha dato è già la palissiano di quello che si realizza, cioè è la storia del dolore e del coraggio. Non soltanto suo, ma di tutta quella gente che lei ha incontrato, ha intervistato, ha svuotato delle cose che si tengono da parte, le disperazioni, la rabbia, il sentirsi schiacciati da un regime molte volte, e certe volte anche soltanto dal vuoto che si ha nel raccontare la verità su di loro. Allora Cernaville, di cui conosco vagamente, ma adesso voglio studiarlo, quelli che sono i termini, i tempi, chi l'ha letto dice che è un capolavoro proprio del nostro secolo. È una delle cose più belle che si possano leggere e recitare anche, perché è da recitare. Le condizioni dei popoli dentro quella scrittura, però le condizioni del nostro popolo, dell'Italia, era anche dentro il teatro di Dario Fo e Franca Rame, perché lo dicevamo, un manuale dell'attore che ripercorre invece le pagine anche più sanguinose della storia civile italiana. Le stragi, le violenze, le persecuzioni e la mancanza di verità, l'ipocrisia, che è una cosa orrenda e la vediamo ogni giorno. Anche stamattina, l'altro ieri, leggo e c'è sempre l'espressione di chi ha in mano il potere di camuffare, di mascherare quello che è la verità. Ecco, il dovere di uno scrittore, di un attore, di un regista sta sempre lì. Il coraggio di dire la verità e di informare un popolo di disinformati come il nostro. La reazione all'ipocrisia, quanto è stata importante? Voi avevate una produzione febbrile di spettacoli, soprattutto nella fase, diciamo, attorno alla fine degli anni 60 e 70. Molto spesso, anche a causa della censura, si cambiava in corsa lo spettacolo che doveva andare in scena quella sera nelle case del popolo. Quanto è stata importante quindi questa molla, proprio dal punto di vista creativo? Certo, per noi è stata una kermesse di fatica e soprattutto bisognava improvvisare, bisognava studiare, bisognava lavorare per smontare un lavoro e farne subito un altro perché era impellente che si parlasse di questo problema. E non so, per esempio c'è un testo sul colpo di Stato, noi si finge a un certo punto che, anzi si fa credere al pubblico che il colpo di Stato sia già in atto, che di fatto noi siamo lì in teatro a fare uno spettacolo, ma è inutile parlare di questo spettacolo perché già fra pochi momenti ci sarà una situazione che non ci permetterà più di recitare, di fare, di dire, ma non era una follia perché in quel tempo i colpi di Stato si seguivano uno dietro l'altro, si seguivano come si dice, in tutto il mondo, a partire dall'America del Sud all'Europa, all'Asia, in ogni luogo c'erano proprio queste imposizioni di un potere che è drastico, assoluto, che distruggeva l'invenzione più bella dell'umanità, cioè la libertà e il diritto di parlare, di dire, di svelare agli altri quello che è il vero contro il falso. Ecco, noi abbiamo fatto uno spettacolo col pubblico che è caduto nella trappola, ma quando ha finito lo spettacolo e aveva scoperto che era tutta una finzione, ma che dentro c'erano delle realtà, che quello era il clima che noi stavamo vivendo, quello proprio prima che il colpo di Stato scopiasse. E allora c'era una esplosione, da una parte di rabbia e dall'altra parte cosciente che avevamo fatto un servizio. Avevamo dimostrato che non si scherzava con queste cose e che non si poteva stare a dormire sul fianco sinistro. Tutto questo in un momento in cui appunto la storia ci presentava pagine complesse, difficili, dolorose come il colpo di Stato in Cile, ad esempio. E in qualche modo è anche un esempio perfetto questo spettacolo di abbattimento, di rottura della quarta parete, con cui inizia proprio con questo monito che oggi è chiaramente un po' il pane quotidiano di chi fa teatro, ma chiaramente negli anni Sessanta la situazione era diversa. Proprio con questo monito di rottura della quarta parete inizia il manuale minimo dell'attore di cui stiamo parlando. Che cosa voleva dire in quegli anni rompere la quarta parete? La quarta parete è quella che permette allo spettatore di sedersi nell'oscuro e partecipare a uno spettacolo senza in verità partecipare col cervello e con le proprie idee, con tutto se stesso. Cioè stare al di fuori, non entrare nel gioco, vedere, osservare, ma non partecipare. Ecco, questa tecnica l'abbiamo poi scoperta guardando i grandi attori della nostra tradizione, addirittura quelli che lavavano spettacoli, i comici, da Totò a Petrolini e facevamo notare, recitando dei pezzi loro, che la coscienza di togliere, poter proprio distrarre gli attori da questa loro condizione di passivi ed entrare nell'attivo, cioè essere partecipe, era fondamentale per un teatro nuovo. Cioè togliere quello che è la nebbia, il piacere però nascosto di guardone, noi dicevamo, un po' un pubblico di guardoni, dobbiamo svegliarlo e tirarlo fuori da quella condizione. E funzionava. Funzionava con fatica e molte volte faceva scattare la negatività di un pubblico che non accettava di essere portato in altra dimensione. Un problematizzato è messo in discussione in questo senso, perché la quarta parete era un po' quell'idea, diciamo, di recitare su un palco come se avesse appunto una quarta parete, quindi non ci fosse comunicazione tra la platea e il palco. Stare dall'altra parte senza essere coinvolti. E c'è appunto però la scelta anche di recitare, di portare il proprio teatro in spazi non ufficiali in quegli anni lì. Si parlava, peraltro Dario Fo e Franca Rame sono stati forse capostipiti di una, anzi di più generazioni di artisti che hanno cercato con grande capabilità di inventare nuovi luoghi, di aprire teatri dove teatri non c'erano, di utilizzare la formula dell'associazionismo, anche nel caso di Dario Fo e Franca Rame per evitare la censura. Però poi i tantissimi teatri che hanno costellato la nostra penisola negli ultimi 40 anni forse nascono proprio da questa esperienza. Qual era, perché appunto utilizzavate questo modello dell'associazionismo? Proprio perché la Costituzione lo permette, lo permette ai cittadini. Se tu ti metti insieme ad altri, uomini e donne, e decidi di realizzare senza lucro camuffato o meno, ma proprio per la gioia e il piacere di creare una comunità di gente attiva e partecipe, allora lo puoi fare. E' il tuo diritto di essere lasciato tranquillo e non perseguitato come accadeva allora, perché noi avevamo sempre la polizia in teatro che cercava di capire che cosa stavamo dicendo, perché usavamo la pantomima, il gramlo, tutti i modelli di forme di espressione che il pubblico aveva imparato a capire e a seguire, ma la polizia no, era fuori, è strana. E allora si arrivava a dei momenti di violenza. Io sono finito in prigione. In Sardegna? Sì, certo, ma non soltanto, ma avevamo il teatro che di colpo arrivavamo al teatro e avevamo il fumo di lontano, stavano bruciando, avevano bruciato il teatro e così molte volte arrivavamo in un luogo e il padrone del teatro con molto dispiacere diceva purtroppo non funziona la luce, non funziona questo, erano tutti pretesti perché era stato imposto di non aprire le porte del teatro a noi e permetterci di lavorare. Questo anche da parte diciamo di spazi collocati a sinistra, c'era anche un perbenismo diciamo di sinistra che non voleva poi entrare in conflitto perché il teatro di Dario Fo e Franca Rame è stato anche un detonatore di certe contraddizioni. Sì, non strugugliate dicevano alcuni, cioè non tirate di mezzo il discorso della politica perché altrimenti rovinate anche il nostro lavoro che è quello di muovere e agire interesse dei lavoratori ma senza una imposizione organizzata. Ci scrivono i nostri ascoltatori, sono proprio stata testimone di quel finto golpe con mio padre e mio fratello, ci siamo caduti e che indignazione avemmo, ci scrive Editta, mentre Giovanni ci racconta sono stato l'anno scorso in pellegrinaggio alla Palazzina Liberty chiusa. Che emozione spiare dall'esterno il luogo di spettacoli visti poi in tv da ragazzino. Vogliamo parlare di questa pagina della Palazzina Liberty? Sì, avevamo occupato questo luogo ma non così arrivando all'improvviso ma dialogando con il Comune, con alcuni del Comune che erano dei socialisti che avevano capito l'importanza di essere al servizio della popolazione in libertà, non con controllo e naturalmente avendo qualcosa così di come paga di questo gesto, essere sempre e poi controllati. Alcuni di loro ci hanno dato il via, ci hanno detto noi vi aiutiamo, fatelo voi direttamente ma evitate di coinvolgere perché altrimenti ci buttano fuori. Così abbiamo occupato la Palazzina Liberty, quasi con il consenso di gente che aveva capito l'importanza di questo atto. Poi naturalmente si è cercato di riprenderla, di bloccarci da parte del Comune e si è arrivati al Tribunale e il Tribunale, cosa straordinaria, ha detto no, hanno ragione Franca e Dario e il loro gruppo di pretendere che un posto abbandonato che non serve a niente ed è invece straordinario come luogo e spazio vada in malora. Fate bene, avete ragione ad occuparlo e a gestirlo. Anche questa è stata un po' un'azione forse capostipide di molto teatro successivo. C'è da dire che Dario Fo quando ha ricevuto il Nobel per la letteratura ha detto questo è un premio all'agente di teatro e quindi chi è l'agente di teatro? Qual era il significato di ritrovarsi in una comunità attorno a uno spettacolo in quegli anni? Il fatto, l'abbiamo già accennato prima, ma vedere arrivare dei contadini, degli operai, degli studenti, della gente comune, che ti veniva a raccontare la propria storia. Era una storia incredibile di una bellezza sul piano della follia, dello slancio, del coraggio e ti dice fai questo, noi siamo disposti a stare qui giorno e notte per aiutarti a fare la nostra storia, che è la storia di migliaia e migliaia di persone, se stai a guardare, anzi milioni di persone. E noi si lavorava con loro a realizzare lo spettacolo. Ed è un fatto unico, proprio anche nella storia, non mi ricordo, il pubblico che diventa partecipe fino a questo punto del teatro. E fu la nostra forza, tant'è vero che sono uscite all'estero le edizioni di quello che facevamo e come lo facevamo, che sono più numerose delle critiche d'arte che abbiamo ricevuto in tutto il periodo. Possiamo ricordare che Dario Fo ha esordito proprio in radio, peraltro, almeno in una parte della sua carriera, con i monologhi grotteschi del Poernano. Sì. E si trattò anche già di un primo scontro con il potere. Ma non veniva da invenzioni così mie e personale, ma dalla fortuna di nascere in un paese, che è Porto-Voltravaglia, sul Lago Maggiore, dove c'era una vetreria e dove in questa vetreria lavoravano anche operai stranieri provenienti da tutta l'Europa. E questi operai, che si ritrovavano a gruppi, cercavano di far conoscere quello che era il loro mondo culturale agli altri, cioè agli italiani che stavano là, agli abitanti, ma anche agli altri popoli che erano venuti a lavorare. E quindi scambiarsi luoghi, termini, tempi, satire, grotteschi. Io mi sono trovato ragazzino dentro ad ascoltare queste storie, che erano recitate metà in dialetto della Lombardia, metà in italiano arraffato. E poi anche in lingue straniere. E' nata lì la scoperta del Gramlò, cioè di una lingua che non esiste nella carta, che si trasforma di spettacolo in spettacolo, e che soprattutto è il transito di comprensione, soprattutto di comunicazione, veramente antico come il mondo. Io mi sono saltato sulla sedia quando ho letto la prefazione di un testo di Bernou, un francese che parlava della vita e della nascita dell'umanità. E diceva che i primi discorsi che l'uomo ha fatto sicuramente non erano in una lingua che si può riprodurre, ma erano in una sequenza di gesti e soprattutto di suoni, di andamenti. E' lì che comincia la cultura dell'uomo. E noi lo stavamo facendo inconscientemente, senza aver avuto indicazioni prima. Lo scoprivamo dopo, come sempre. Guardando la biografia che si snocciola all'interno del nuovo manuale minimo dell'attore, e diciamo la biografia artistica di Dario Faux, per chi ama il teatro c'è sicuramente una vertigine, perché ci sono nomi da Streller, Grassi, Beckett, anche l'incontro a Berlino, Franco Parenti, Jacques Lecoq. Qual è stato l'incontro più importante nella prima fase della sua carriera? E' veramente impressionante la quantità di gente straordinaria che ci riusciva di avvicinare. Molte volte erano loro che, curiosi, venivano a vedere i spettacoli e poi ci aspettavano o prendevano appuntamenti perché noi raccontassimo il perché, come si stesse svolgendo un teatro del genere. Da dove veniva? La commedia dell'arte, per esempio. Io non l'ho scoperta sui libri o per i racconti di un professore, ma l'ho scoperto mettendomi a recitare dei testi che erano dei canovacci e scoprendo che non era l'altro il modo di rappresentare questi testi e che avevano un tessuto di origine che era la storia del tempo in cui avvenivano. E qui stiamo partendo dalla fine del Cinquecento, venendo avanti per tutto il Seicento, per tutto il Settecento e ci sono migliaia di compagnie che sono nate non soltanto da noi in Italia, ma in tutta Europa e soprattutto io ho scoperto delle compagnie che provenivano da questo modello, da questo modo di rappresentare nell'Oriente, perfino in Cina. E questo mi ha veramente stupito e mi ha fatto capire che c'è un livello intermedio dove viaggiano le idee, le passioni, gli slanci che è sotterraneo e che ogni tanto riappare sopra il livello del terreno e ti fa meraviglia della quantità di idee, di fantasia, di follia che esiste nella cultura dell'uomo. Visto che siamo nella settimana del Nobel, l'incontro con Samuel Beckett ce lo vuole raccontare brevemente? Non ho capito, scusa. L'incontro con Samuel Beckett. Ah, sì, quella è la dimostrazione dell'uso che bisogna fare dell'impossibile, anche dell'incidente. Ecco, l'incidente si dice da parte di Arlecchino, Spulcinella, quando parlano fra di loro, è la cosa fondamentale di tutta la fantasia. Devi usarlo, non devi fuggirlo, devi cercare di farlo diventare teatro. E lì mi sono trovato, ero a Berlino e avevo un appuntamento con lui per conoscerci e sono andato nello sciapitò, cioè nel circo, dove lui lavorava con attori che venivano tutti dalla galera, che lui aveva portato dall'America. E a un certo punto, nel montare lo spettacolo con i fonici e soprattutto con i datori di luce, si rende conto che hanno fatto un pasticcio terribile nella progressione, avevano sbagliato, avevano inserito musiche che non c'entravano niente e poi di colpo stava quasi per dire fermi tutti, tutto da capo, dicendo fermate, rifate quello che ho visto da mezz'ora a questa parte, da capo per favore. Ma è impossibile, sono un incidente, ritrovate l'incidente, non si butta via. E io ho visto rinascere tutta una ricerca per quel fatto insolito e soprattutto sgangherato che diventava lo spettacolo che poi ho visto in scena dopo dieci giorni. Noi all'inizio di questa conversazione abbiamo parlato di quanto è stata importante anche l'indignazione, la reazione verso l'ipocrisia del discorso politico. Anche il discorso politico di oggi, diciamo, si può parlare di quanto poi la verità sia al centro o meno della politica. Il teatro è un luogo di finzione, però è una finzione che diventa uno strumento di verità. Come avviene questa cosa? Come sono in contrapposizione il teatro e il potere in questo senso? Beh, quello della sorpresa davanti al casuale, all'improprio, all'impossibile è quello che fa muovere il teatro e lo scopri anche guardando Molière, guardando Diderot, guardando tutti i grandi uomini del teatro che è guai se non prendi a piene mani la casualità, il fatto che non ti aspetti e soprattutto non lo sviluppi. Sai benissimo che andando a leggersi le cronache di tutto il teatro del mondo ci sono degli spettacoli che sono nati per caso e per problemi che erano estranei. Per esempio a un certo punto si allaga il teatro a Verona, il fiume è uscito e da quella situazione col pubblico che fugge, con gli attori che non sanno come muoversi, nasce l'idea di uno spettacolo. Uno spettacolo in cui si finge che ci sia l'acqua ma è per portare gli spettatori a muoversi, a uscire, a venire più in alto, cioè nel palcoscenico, a essere presenti e nasce uno spettacolo tutto di paura, di timore, di panico e alla fine di grottesco perché finalmente si è riprodotta nel gioco dell'assurdo la realtà. Nel nuovo manuale Minimo dell'attore edito da Chiare Lettere lo ricordiamo è firmato da Dario Fo e anche da Franca Rame ed è anche commovente leggerlo e vedere quante poche volte Dario Fo si discosta dal noi per utilizzare l'io. Qual è il lascito artistico di Franca Rame? La cosa straordinaria è il fatto che lei rimetteva in scena la propria vita, soprattutto le proprie origini e l'istinto che il DNA aveva lasciato dentro il suo cervello per cui lei poteva parlare nel linguaggio e nelle forme dei propri genitori e soprattutto dei nonni, dei bisnonni eccetera eccetera di una forma di teatro libera e senza convenzioni bloccate e soprattutto con una propensione dell'impossibile cioè non si partiva mai nel realistico ma nel ricostruito nel rinventato rinventare la verità rinventare la vita rinventare ogni momento dell'incontro tra gli uomini e le donne e le donne e i bambini e via dicendo e questa grande forza e questa possibilità di essere testimone di un linguaggio che ormai era decaduto è stata la lezione più grossa che io abbia avuto da Franca daria che io abbia avuto che io abbia avuto un linguaggio che io abbia avuto